Capricorno, buonanotte per chi ha preso le botte, oggi sono positivo perché non uso il preservativo Sono Gino Lo Spazzino di Torino su Radio 1 Turbo Bianca La radio che manca, che manca, che manca, che manca Vi ricordate della Beffana che veniva di notte e io la riempivo di botte? Beh, l'ho riempita veramente, ma veramente Tanto, 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 tanto Ed ora un messaggio per Gino Lo Spazzino Ciao Gino, sono Loretta e ti sto ascoltando con le cuffiette mentre stanno sotterrando mio nonno Perché è scivolato dal balcone mentre tentava di mandare via i piccioni Gino, però io ti ascolto sempre, sei troppo il mio amico Un po' di rispetto Cara mia Loretta, mi spiace per tuo nonno, che ora ha tanto sonno Eh sì Ma non ti rattristare, prima o poi, anche tu dovrai crepare Ma no, ma che modo è? Disco polenta concia Bonciata concia Stamattina l'ho mangiata prima di venire in radio Buono Minchia come sto scoreggiando Che cazzo fai? Sto sperimentando No, stai scoreggiando Gino Sto sperimentando No, no, c'è il culo all'aria e sei i piedi sulla sedia davanti al microfono Minchia, oggi il programma è in otorama La tartaruga Un tempo fu Un animale che correva testa in giù La bella tartaruga che cosa mangiava Chi lo sa E adesso la chicca della settimana Ciao, sono chicca, saluto tutti quelli che mi conoscono Ciao chicca, la prossima settimana un'altra per voi Dimmi C'è mica da prestarmi una bolla perché mi sembra che ho messo la mensola un po' in pendenza In, 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 pendenza Mensola in pendenza Minchia che potenza Minchia che potenza Gino Dimmi È arrivato uno stock La vuoi una felpa della Napa Piri? Napa Piri te la tiri Napa Piri te la tiri E adesso Sennò Gino Dimmi C'è anche un sacco di roba della Replay Come scusa? Un sacco di roba della Replay Ripeti scusa? Un sacco di roba della Replay Replay Ma veramente c'è la roba della Replay? Sì Gino, te lo giuro Ma veramente c'è la roba della Replay? Sì sì, ho capito, te l'ho già detto Ma veramente c'è la roba della Replay? E adesso Gino C'è mica il numero di un puttanone che sono in astinenza Sei in astinenza Minchia che potenza Minchia che potenza E il problema è che quello vero, cioè Gigi D'Agostino Fa un programma identico Ma non ha numero di puttanone Comunque è polenta oncia, non polenta concia Ma guarda, è un coglione Ma non me ne frega un cazzo Io c'ho la tt Ma non mi ne frega un cazzo